buongiorno a tutti e a tutti da salvo russa in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro verso il mio negozio io sono qui stamattina all'antica strada romana questo sito storico culturale che presenta siracusa siamo angolo con in mezzo a cosso umberto con via malta e villini all'interno di quest'area insiste questa che è un pezzo di storia anche siracusana un antico tratto di strada romana come veniva fatta un tempo l'arteria stradale di collegamento nell'impero romano che arriva fino ai giorni nostri con questo video di oggi lancio la richiesta di trovare dei volontari e volontarie che vogliono darci una mano nel recuperare questi piccoli e grandi tesori cerchiamo appunto giovani e giovane di ogni di ogni età diciamo dal dalla tenere dai da 14 anni in su che insieme a noi ci hanno una mano non solo nella manutenzione ma anche nella poi riapertura nel fare usufruire alla collettività e ai turisti questi nostri tesori parlo di nostri perché di tesori perché non è solo l'antica strada romano c'è il foro siracusano l'ipogeo politi le terme bizantine e altri ulteriori tesori che come comitato attivisti siracusani stiamo cercando di recuperare e restituire la collettività qui ad esempio all'antica strada romana vogliamo provare a realizzare se ci riusciamo già dalla prossima primavera degli eventi all'interno di questo tratto immaginiamo di poter realizzare degli eventi musicali ovviamente di musica classica per farlo abbiamo bisogno anche del tuo aiuto se puoi e vuoi venire con noi se magari se una persona di una certa età ci puoi aiutare in due modi o facendo delle piccole donazioni oppure convincendo i tuoi nipoti a venire ad aiutarci tra l'altro noi poi possiamo anche rilasciare una attestazione che si è voluto fare questo tipo di attività insieme a noi e questo fa curriculum ovviamente noi facciamo queste attività autorizzate a farle dalla sovrintendenza e beni culturali del comune di Siracusa quindi capite che ha un certo valore quello che noi facciamo verso la collettività verso i nostri prossimi utilizzatori perché noi facciamo questo per i nostri figli per i nostri nipoti perché tutto questo lo tramanderemo lo lasceremo appunto ai nostri figli e ai nostri nipoti per unirsi a noi potete mandare un messaggio whatsapp al 347 10 97 484 o una email a comitatoattivisti siracusani.com per farci qualsiasi domanda siamo pronti ad aiutarvi e siamo alla ricerca della vostra collaborazione per aiutarci ad aiutare me ne vado a lavorare codice stazione di oggi 0001 si vincerà lunedì prossimo alle 20 e 15 un buono amazon da 10 euro buona giornata a tutte e a tutti io sono bruscia ciao